ma se io aspetto che quell'altro spawni qui e lo ammazzo instan non funziona se facciamo che uccidiamo prima lui così per cambiare un po' se qualcuno si avvicina no eh voglio stare vicini vicini un altro spawn a qua a sbaglio un altro spawn a qua a sbaglio ma si mhm un altro spawn a sbagliare un altro spawn a sbagliare un altro spawn sono troppi allontaniamoli se ne è spawnato uno dietro no questo mi sta troppo rincorrendo dopo facciamo la fine dell'altra volta che per attaccare uno mi attacca quello dietro che mi rincorre se qualcuno mi fa il piacere di staccarsi niente nessuno quello che che roba eh il fatto è che non so che aperture prendere davvero ecco se stanno tutti vicini c'è la cosa positiva che 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 li vedo cosa fanno ok dobbiamo attaccare lui attacca e fuggi praticamente no ma ora che muore ok no è qualcuno che fa cose ovvero si avvicini a me cosa stanno attaccando eh ora si avvicinano tutti oh oh ok no va bene no 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 medio quello ok ok di nuovo sto giusto sì ok via via devono stare parecchio distanti tra loro e non rincorrermi ok quello è rimasto fermo a cassare quindi posso colpirlo no troppi come sta bene sì è questo il dilemma sempre quando no non proprio non proprio ora ok puliamoci oddio ok mi inseguono troppo devo vederli meglio ok basta che non mi fanno la mancia che mi fa perdere tempo e piano piano facendo così ci si riesce troppa gente lui è vicino vabbè vabbò fuck arrivederci sogni d'oro ciao ciao ciao